Un ricordo su Borg, visto che lei lo ha sconfitto per qualcuno. Dicevo anche prima, mi ha chiamato mezz'ora fa e non sapeva neanche che venivo qui. Ho trovato a vedere il tuo film, spero di vederti poco a te, a lui proprio personalmente. Siamo avuti già abbastanza tanti anni fa. Che ricordo ha? In particolare quella volta di Marbella l'hai ricordato ubriaco. Vabbè, sì, poi l'ho raccontato, capitava, a me non capitava, però a lui intanto capitava. Però il giorno dopo ho battuto lo stesso, per cui lui gli faceva un baffo, gli faceva un baffo bene.